È un'iniziativa che tende naturalmente a sensibilizzare ancora di più l'opinione pubblica e a fare un ulteriore passo in avanti nel senso del ritorno alla normalità perché noi riteniamo che attraverso la vaccinazione ci sia questa grande possibilità un ritorno quindi a quelle che sono le nostre abitudini, a quelle che sono le nostre passioni naturalmente Roccella ha puntato molto su quello che è il senso di responsabilità dell'utenza che devo dire la verità non si è limitata ad essere una utenza locale ma abbiamo avuto modo nelle passate manifestazioni di notare che l'utenza si è allargata quindi l'intero territorio locrideo è venuto a Roccella per vedersi somministrato il vaccino un gesto ritengo di amore, di amore per la vita soprattutto alla luce di quelle che sono le numerose morti che sono determinate dal Covid quindi ancora una volta l'invito che fa l'amministrazione comunale è quello di vaccinarsi al fine di riprendersi la quotidianità e quindi di divertirsi e di vivere quotidianamente con grande senso di responsabilità